Eurofórmula è aperta, la prima volta di Nürburgring, una locazione importante. Siamo con Saud Al-Faisal, la tua sensazione per il primo settore di racconto della season. È un buon settore, avevamo un po' di problemi nella prima racconto. La seconda racconto era molto buona, avevamo un podio, la prima in classe. È un buon settore. Qual è la tua ambizione, la tua prospettiva per tutta la season, dalla seconda e la prossima? Qual è la seconda racconto in Portimao, in Portogallo? Continuiamo. Continuiamo a lavorare forti e continuiamo a collettare i punti. E ottenere tantissimi vini che possibili nella classe. E magari competiamo con l'altra classe, con 312. Io credo che l'auto è buona e dovremmo essere buoni in Portimao. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.